Professor Stupia, come vanno letti i dati attuali? La crescita vertiginosa si è restata, quindi abbiamo molti casi ma non stanno più aumentando, si sono stabilizzati. Il dato però più interessante è che abbiamo fatto un po' un'analisi della prevalenza di Omicron e Delta. Ormai sulla popolazione abbiamo fondamentalmente solo Omicron, ma se andiamo a vedere i casi più gravi, quelli che finiscono a pneumologia o in rianimazione negli ospedali, lì sono 50% Delta e 50% Omicron. Questo vuol dire che Delta, lo sappiamo, essendo più aggressiva, è tuttora responsabile dei casi più gravi. Quindi questo ci fa ben sperare che nelle prossime settimane i casi di infezione rimarranno molto alti perché Omicron è molto infettiva, ma dovrebbero calare i casi gravi anche il numero dei morti. Questa è la previsione che facciamo e che spero sia quella giusta perché vorrebbe dire a questo punto di cominciare veramente a passare dalla fase pandemica a quella endemica. Qual è la fotografia tutt'oggi del suo reparto, anche tenendo conto di quelli che sono stati coloro che sono guariti dal Covid l'anno scorso? Al momento la pressione sull'ospedale, ma credo che sia un dato regionale, non è ancora affievolita. Di solito avviene prima sul territorio e poi conseguentemente noi vediamo anche una pressione che si ridurrà, speriamo, sull'ospedale. Rispetto a quello che abbiamo imparato dai pazienti che si sono contagiati mesi e mesi fa, ci siamo confrontati con questa patologia nuova che è appunto chiamata Long Covid, perché in qualche modo, non vorrei sembrarle un estremista, ma per alcuni pazienti la negatività del tampone non significa e non corrisponde a una reale guarigione. La negatività del tampone dichiara la non infettività del soggetto, ma probabilmente per i meccanismi di tipo infiammatorio che questo virus innesca e per la disregolazione che dà al sistema immunitario, molti pazienti a distanza di mesi continuano ad avere disturbi in diversi distretti anatomici. Guardando al futuro, che tipo di strasci che ci sarà? Avremo due situazioni. Una post bellica, diciamo, nel senso che dovremo lavorare sui danni dell'economia, sui danni psicologici delle persone, soprattutto dei giovani. L'altra purtroppo ancora bellica, che è quella che avremo sulla popolazione dei non vaccinati, se ne parlava proprio dentro, l'Abruzzo da solo a 60.000 persone non vaccinate e per loro tutto questo scenario è ancora bellico, non post bellico, nel senso che loro, infettandosi, rischiano di stare male.